Anche la tosse sono fottuto. Alberto De Luca. Salutiamo Davide, siamo qui con Alberto De Luca, Lions. Lions perché è una realtà che da tempo è impegnata e attiva sulle tematiche dei non vedenti. Lo fa a scopo filantropico, sostiene la ricerca. Ricordo, siamo qui in piazza Duomo, abbiamo un plastico in bronzo che ripercorre la città fatto dai Lions, ma la settimana scorsa eravamo qui a promuovere e sensibilizzare sulle tematiche dei non vedenti, ma c'è anche un grande sostegno alla tecnologia. Il Bell, cos'è? Allora, sarà un'impresa abbastanza difficile per me, dopo il signor Cervellin che è un comunicatore eccezionale. Cercherò di fare del mio meglio. Io sono un Lions, i Lions è un'associazione mondiale con 45.000 club in Italia e oltre 1.350.000 soci in tutto il mondo. È un'associazione che mira a donare, non va alla ricerca di fondi per poter fare qualche cosa. I Lions sono nati proprio con l'intento e la volontà di poter essere vicini e poter dare tutto quello che è nelle proprie possibilità a favore dei non vedenti. Difatti è stata proprio la Melvin Jones a fondare questa istituzione che poi è stata portata avanti da Ellen Keller proprio a favore dei non vedenti. Cos'è il bastone elettronico? Parto a raccontarvi come sono arrivato io al bastone elettronico. Come voi sapete in Italia ci sono, io dico, numerosi non vedenti, non pochi. Perché secondo me 350.000 ciechi non sono pochi, sono un bel numero. E se di questi consideriamo che soltanto il 2% usano i cani, il 10% il bastone tradizionale, vuol dire che abbiamo un'infinità di persone che non si muovono e se si muovono, si muovono accompagnate. Quindi parliamo di un qualche cosa come quasi 300.000 ciechi che non hanno nessun mezzo per essere un pochettino più autonomi nei loro movimenti, nei loro spostamenti. Allora i Lions parecchi anni fa hanno fondato a Milano un centro di addestramento cani e quello è un po' il fiore all'occhiello dei Lions. Se consideriamo che sono gli unici che hanno mantenuto inalterato, anzi hanno potenziato ulteriormente la loro distribuzione, il loro addestramento ai cani rimanendo intorno ai 50, gli altri che facevano parte, Scandici, Messina, hanno purtroppo ridotto il loro numero di cani addestrati perché incominciano a mancare le finanze. Le regioni, le province non danno più aiuto, non danno più sostegno. Quindi siamo arrivati che poco più di neanche 300 cani all'anno riescono ad essere assegnati ai ciechi. Niente, praticamente è come se non si riesce nemmeno a sostituire i cani che muoiono. Allora, un Lions francese, una quindicina di anni fa, un docente universitario di elettronica, si è posto questo quesito, ma perché non mettiamo insieme, sfruttando tutto quello che può essere la tecnologia, applichiamo l'elettronica in uno strumento che già il cieco sta utilizzando, il bastone tradizionale. Ha pensato di costruire una scatoletta poco più grande di un pacchetto di sigarette da applicare al bastone tradizionale che già il cieco utilizzava. Perché? Perché è molto importante che la lunghezza sia rispettata per poter avere l'angolatura giusta, l'inclinazione giusta e tutti i parametri. E come l'ha fatto? L'ha fatto con raggi infrarossi. Ottima soluzione. È stata portata in giro, proposta dai Lions francesi. E in Francia ha incominciato, in collaborazione con i centri di addestramento cani, hanno incominciato a farlo provare ai non vedenti della zona di Parigi e poi l'Imitrofa. Un nostro governatore, io faccio parte del distretto che va a Vicenza, Verona, Trento e Bolzano, un nostro governatore in occasione di un congresso proprio in Francia ha visto che stavano facendo provare questo ausilio, questo bastone elettronico. È rimasto incuriosito, è ritornato in Italia e ha detto a noi, a un mio collega, ma perché in Francia sono già così avanti e noi qui in Italia siamo ancora fermi e non siamo in grado di poter considerare qualcosa del genere? Ci siamo fatti carico e dal 99 abbiamo incominciato a promuoverlo anche qui in Italia. Naturalmente per poter utilizzare questo bastone elettronico il non vedente deve essere istruito, perché deve sapere interpretare i segnali di vibrazione che gli vengono dati dal ritorno. Come funziona questo bastone? A raggi infrarossi, il primo che era stato costruito, emetteva i raggi, incontrava l'ostacolo, ritornava al ricevitore, a questa scatoletta ricevitore, la quale dava dei segnali di vibrazione divisi in tre tipi di vibrazione. Bastone a terra, il segnale con ostacolo a terra, ostacolo in aria e ostacolo completo, basso in aria. Perché queste tre suddivisioni? Allora, prima il cervellino diceva che la problematica più grossa è quella della buca. Allora, io non lo voglio smentire, ma voglio dire che i più grossi infortuni che subisce il non vedente è la testa, non la buca. Perché, grazie, perché la buca, usando il bastone, il bastone lo sente perché si affossa e siccome il bastone è più lungo del passo del non vedente, sente... Abbiamo perso qualcosa, sì. Non lo speriamo. Sente che il bastone scende e di conseguenza ha tutto il tempo per poter individuare l'avallamento che c'è, se è piccolo, se è un gradino, se è una buca dove rischia di andare dentro tutto e anche muovendo il bastone a destra e sinistra l'ampiezza del fosso. Mentre con il bastone tradizionale, se c'è un ostacolo sospeso sopra un metro e mezzo, un balcone aperto, un cartellone, un ramo che sporge, qualcosa di genere, inevitabilmente lo prende in testa. Perché quel bastone non ce la fa a individuarlo. Allora, il bastone elettronico aveva il compito anche di individuare un ostacolo in superficie, in alto, sopra un metro e mezzo, con un sensore che guardava proprio da un'altezza di 50 centimetri verso l'alto. In questo modo il non vedente aveva il segnale anche che era di fronte a due o quattro metri o otto metri addirittura un ostacolo. Più si avvicinava, più vibrava, di conseguenza sapeva quando era ormai a ridosso dell'ostacolo, individuava e lo scansava. Indubbiamente era un sistema elettronico e aveva anche quello lì un piccolo inconveniente. Piccolo che però dava i suoi problemi. Ovvero, l'infrarosso, se per caso durante una camminata su marciapiede qualcuno parcheggiava un'auto nera, l'infrarosso, il nero, non lo respinge, lo assorbe. E siccome purtroppo si capitava di trovare qualche ostacolo sul marciapiede e l'altro inconveniente è che se per caso si trovava di fronte a una grande vetrina il vetro altrettanto non rispingeva il segnale ma oltrepassava e quindi non dava neanche quel segnale. Però questo è servito per smuovere le acque, per stimolare, fare la punta al cervello a tanta gente per cercare di individuare e migliorare sempre di più questo ausilio. Quel tipo a raggi infrarossi in Francia ne sono riusciti a distribuirne più di mille elementi. Da noi la penetrazione quant'è del bastone elettronico? L'avitudine all'uso del bastone elettronico è diffuso o siamo ancora indietro? Allora, in Francia ne hanno già dato quello ultravioletto al infrarossi più di mille e adesso noi in Italia siamo partiti appunto stavo dicendo con quello lì i primi ad essere coinvolti è stata la Irifor di Trento e quello di Verona e loro ci hanno aiutato a cercare un paio di ciechi che si sentivano motivati e si sentivano anche in grado di poterci seguire e abbiamo preso e formato due istruttrici qui in Italia e abbiamo incominciato a farglielo provare, usare. Naturalmente il corso è stato abbastanza impegnativo, è stato costoso perché abbiamo dovuto apprendere tutte le tecniche dalla Francia e abbiamo incominciato il primo anno formando i primi due e il secondo anno hanno incominciato loro stessi a trasmettere l'esperienza morale in cui dopo 5-6 anni già 30 non vedenti del nord Italia diciamo usavano il bastone elettronico a raggi infrarossi nel frattempo è stato messo a punto per ovviare all'inconveniente del nero e della vetrata è stato messo a punto un bastone che usa gli ultrasuoni indubbiamente è stato un magnifico passo avanti l'ultrasuono è molto più sensibile e di conseguenza anziché dare il segnale a un unico percussore quindi il non vedente doversi concentrare a sapere distinguere il tipo di vibrazione eccetera è stato fatto con due percussori il percussore inferiore che è quello che dice al non vedente guarda che per terra tu troverai un ostacolo a 2 o 4 metri a seconda dell'impostazione che lui mette perché è creata una diversità di distanza perché il non vedente si può trovare in una piazza grande quindi mette i 4 metri e va spedito tanto sa che a 4 metri il bastone elettronico gli segnala la presenza di un ostacolo a mano a mano che si avvicina riesce a individuarlo e lo scansa se poi trova una piazza affollata, un supermercato o un centro commerciale eccetera lo mette sui 2 metri, va molto più lentamente però riesce a scansare il tutto perché è più facilitato questo? perché i due percussori, uno inferiore e uno superiore quando vibra quello inferiore l'ostacolo a terra quello superiore l'ostacolo in aria quando vibrano tutte e due vuol dire che c'è un ostacolo che va da terra in aria una colonna, un palo, un albero, un muro se nello spostamento le due vibrazioni continuano vuol dire che hanno un ostacolo ampio, un muro e quindi cambiano direzione oltretutto il non vedente quando cammina col bastone tradizionale è costretto ad avere lateralmente un riferimento, un muro e quindi deve prima cercare il muro, toccarlo e poi iniziare a camminare però ogni tanto toccare il muro per avere la giusta distanza e il riferimento col bastone elettronico questo non serve perché è sufficiente con una piccola rotazione del polso il segnale va verso il lato se rimbalza il muro c'è se non rimbalza vuol dire che non c'è la interrompo un attimo vuol dire che con questa tecnologia posso utilizzarlo anche all'interno dell'abitazione quindi sulla portata corta mi posso muovere anche all'interno di casa? all'interno di casa è un po' sprecato perché è talmente corto per l'interno del casa c'è un altro prodotto molto piccolino che viene messo al polso per individuare l'ostacolo molto vicino, molto breve anche quello di costruzione francese questo invece è inglese attualmente le difficoltà maggiori qual è stata e qual è tuttora? quello di farlo conoscere la difficoltà è quella dello scetticismo lo scorso anno sono stato a Roma al centro Unione Nazionale di Roma dove fanno la verifica e prendono in considerazione gli ausili e il responsabile quando abbiamo parlato del bastone elettronico ha detto si guarda c'è la fila da qui in fondo lì che vengono in continuazione a proporre dei prototipi poi però ha accettato di provarlo perché ormai aveva sentito che più di 50 ciechi lo stavano utilizzando le informazioni erano decisamente favorevoli allora con quattro non vedenti uno dei quali aveva anche un cane un cane guida abbiamo fatto il giro per Roma e alla fine del giro che siamo rientrati hanno apprezzato molto l'utilizzo l'hanno considerato non più un prototipo ma un ausilio che può essere ben utilizzato e hanno informato tutte le altre unità e questo ci ha permesso di essere più accettate le unione ciechi che già erano un po' scettici a fare delle prove e a comunicarlo questo per noi Lions è una grossa soddisfazione perché noi non vendiamo niente noi cerchiamo di donare di donare facendolo conoscere per poter integrare i cani guida che sono purtroppo troppo pochi mi chiedevo quanta diffidenza c'è ancora in un vedente nell'utilizzare uno strumento ad alta tecnologia come il Bell è abbastanza perché già i numeri che davo prima che soltanto il 10% del non vedente si muove con il bastone e quindi la diffidenza è data un po' dal non sentirsi sicuro e quindi prima cosa dovrebbe utilizzare il bastone bianco tradizionale e qui purtroppo c'è la mancanza delle istituzioni dovrebbero mettere più fondi agli unioni ciechi che possano fare dei corsi purtroppo manca questo sono convinto che se le istituzioni di questo ne abbiamo parlato con la ministra Lorenzin lo scorso anno che è venuta a provarlo al nostro congresso nazionale in modo che mettono più a disposizione costa decisamente meno mettere a disposizione delle istituzioni delle unioni ciechi da fare dei corsi di istruire di rendere più autonomi i non vedenti piuttosto che sponsorizzare a pensioni e roba del genere bene io ringrazio volevo aggiungere una cosa se mi permette assolutamente ecco perché adesso anche noi italiani in Italia è venuta la voglia di poter proporre e arrivare a donare un bastone italiano e cosa abbiamo fatto in questi 4-5 anni con l'ausilio dei 100 ciechi che lo stanno utilizzando abbiamo recepito alcuni suggerimenti perché è molto importante le stiamo applicando e aggiornando in un bastone che verrà a breve proposto qui di produzione italiana di produzione italiana anzi di produzione trentina mi sbilancio e quindi sarà un ulteriore passo avanti da parte di Lions a favore dei ciechi io ringrazio Alberto Eruca e Lions per quello che fanno ma vorrei chiudere con una battuta di Ferdinando Ceccato direttore della cooperativa IRIFOR Trento qui via da Malvasia gli strumenti che ha descritto poc'anzi Alberto Cervellin il bastone elettronico che Alberto Eruca e di Lions ci ha illustrato sono strumenti che possiamo anche provare quotidianamente alla cooperativa IRIFOR vero Ferdinando? Sì sicuramente noi abbiamo un'ottima ausilioteca è aperta a tutti basta venire a trovarci e si possono provare un grande grande possibilità di strumenti abbiamo anche strumenti non digitali non elettronici di uso veramente quotidiano anche in casa che però fanno la differenza anche quelli bene un grazie fra un po' credo 18 e 30 un appuntamento altrettanto interessante proposto dalla call di Trento Smart City come essere autonomi in un altro momento di disabilità ma lo vedremo fra un pochino grazie a presto grazie 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 grazie